Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, il momento culmine di questa serie sta per arrivare. Benvenuti in questo diciannovesimo episodio della Challenge Lock a Pokémon HeartGold. Nello scorso episodio siamo giunti alla Lega Pokémon perdendo sulla strada Dory, ma ragazzi, il team ha acquistato un membro d'eccezione, ossia O.O. Questi sono i livelli, ragazzi, moveset, li vedrete durante la battaglia. Prima di iniziare vi invito subito a lasciare un mani di piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno. La Challenge di oggi, ragazzi, sarà molto particolare e si tratta, in sostanza, di recuperare tre Challenge dell'intera serie e utilizzarle tutte nello stesso video. Le tre Challenge che ho scelto sono non poter utilizzare la stessa mossa tre volte di fila, non poter shottare i Pokémon avversari, pena l'impossibilità di utilizzare il Pokémon che ha shottato per l'intero episodio. La Challenge diceva depositare, ma non potendo depositare ho dovuto adattarla. E la terza, invece, è quella secondo la quale un Pokémon morto sarà curabile, mentre un Pokémon che raggiungerà la vita rossa andrà considerato morto. Ragazzi, proprio per questo ho comprato ancora i revitalizzanti. Questi sono tutti i rimedi che sono riuscito a ottenere vendendo gli vari strumenti. Ragazzi, andiamo. Oltre quella porta si trova uno dei Super 4. È a dir poco temibile e una volta entrati non si può tornare indietro. Te la senti? Allora fatti coraggio e vai. Ragazzi, la Lega Pokémon di questa generazione è veramente una Lega storica. Forse non è la migliore, ma sicuramente è storica. Mi raccomando, seguite tutto il video. Uno, perché è la fine della serie ed sarà davvero un episodio fantastico con tantissime battaglie. E due, perché ho un annuncio abbastanza importante da fare. Più che altro una proposta. Allora, io mi devo mettere le challenge qua di fianco perché mi devo assolutamente ricordare. Non devo fare assolutamente passi falsi. Iniziamo con Brazzerina davanti e speriamo in bene. Ovviamente faremo tutta la Lega in questo episodio, sia chiaro. Eccoti alla Lega Pokémon. Permettimi di presentarmi. Mi chiamo Pino. Mi sono allenato in tutto il mondo per potenziare i miei Pokémon di tipo Psico. Infine, sono stato ammesso tra i Super 4. Qui non potrò che migliorare. Che io perda è impensabile. Parte la sfida. Con il primo Super 4. Ho allenato, come avete visto, i Pokémon. Tutti a livello 46 più uno a livello 47. Io spero davvero che bastino. Porca Troia. Già iniziamo di merda. Mi devo ricordare che non devo assolutamente shottare. Quindi facciamo una cosa. Andiamo di funesto vento subito. In modo tale da togliergli qualche Ps. Magari ci boostiamo anche per dire. Per dire. No, sia mai. La Cerbosa non dovrebbe farmi troppo. Ora. Sinceramente penso che con Volo io possa mandarlo giù. Quindi la proverei. Spero che non abbia qualche mossa strana di tipo Roccia. Sennò sarebbe davvero un problema. Affanno seme. Ok. Dovrebbe mettere... Dovrebbe trasformare la mia abilità in insonnia. Volo. Vediamo se ho predictato correttamente la sua morte. Perfetto. Allora. Ho utilizzato Volo. Perfetto. Sì siamo a posto. Raga. Ogni tanto butterò l'occhio sulle challenge. Perché rischio davvero di dimenticarle. Altrimenti. Relicant. Ok. Switchiamo subito. Relicant. Bel problema. Allora. Proviamo a dare Mr. Satan. Utilizzeremo Gran Fisico. E poi andremo provando uno Sweep. Facendo ben attenzione però ragazzi. A non utilizzare la stessa mossa tre volte di fila. Altrimenti sarebbe un problema. Il video probabilmente sì. Verrà un po' più lungo del solito. Però essendo la Lega. Io ho sempre trattato così questo genere di video. E continuerò mantenendo la mia coerenza. Allora. La Tempesta di Sabbia. Ci danneggia. Ma non dovrebbe essere un problema. Proviamo una breccia. No 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 no. Cazzo. Non ci ho pensato. Reggi. 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 Ok. Mi son dimenticato la challenge. Guardate che io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Fermi. 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 Ora lui in teoria dovrebbe curarsi. Ricarica totale. Ok. Lo sapevo che sarebbe andata a finire con... Merda. Io avrei voluto provare a shottarti però. Però non so se ce la faccio. No aspettate. Però in teoria dovrei attaccare per primo no? Bastardo. Ha switchato. Figlio di troia. Ok. Allora calma. A sto punto switcho anch'io. Non me la sento. Direi di mandare Oh Oh raga. Oh Oh. Se non sbaglio dovrebbe avere fuoco pugno. Giorno di sole. Laccio erboso. E aeroassalto. Spennata su Oh Oh. Ok. Siamo a posto per le challenge. Sì. Non ho violato nulla. Allora. Sì. Ci ho preso sul moveset. Andiamo di giorno di sole ragazzi. E poi proviamo a cavarcela così. Trespolo. Ora. Merda. Devo ributtarti giù un pizzico di vita. Che sbatti. Allora. Andiamo di là a cerboso subito. Perché ovviamente raga. Se sicura è a full vita. Sarebbe comunque shottato. Fra virgolette. Se lo mandassi giù totalmente. Ok. Ora con fuoco pugno. Se tutto va come deve andare. Questo beauty fly dovrebbe morire. Perché. Comunque raga. Va detto che. Cioè nel senso. Eh. Giorno di sole. Tipo fuoco. O. O. Non ha un bruttissimo attacco fisico. Perfetto. Mandato giù. Ok. Sta andando abbastanza bene. Reli. Ok. Per relicant me la posso cavare con il laccio erboso. Perfetto. Perfetto. Non l'ho shottato. Perché aveva già la vita. Andata da puttane. Ottimo. Tentacool. Allora famo una cosa. Mandiamo. Mandiamo fuji. E facciamo prima un veleno croce. No. Oh. Che cazzo fai? Stai scherzando? Cioè non ha neanche crittato? Ok. E ora in teoria. Pestone. E dovrei mandarti giù. Volevo utilizzare psichico. Però poi ho riflettuto sulla challenge. E non sarebbe stata una grande idea in effetti. Stealix. Stealix. Provo strength raga. Provo strength perché potrebbe. Allora. Andiamo di forza. Che non gli farà molto. Obliderio. Ok. Calma. Surf. Non dovrebbe mandarlo giù. Ok. Ossorafica. Aia. Fermati. Ok. Surf. No. Bastardo. Non crittare. Non crittare figlio di puttana. Non crittare. Non crittare. No. Guardalo che ha crittato. Cioè raga no. Però sono due episodi di fila. Che va così. Che ci rimetto per stronzate. Raga. Strength non potrà più essere utilizzato. Per l'intera lega. Non è morto. Non potrà essere utilizzato. Cioè è davvero. È la seconda volta che mi succede una roba del genere. Io veramente non so più cosa dire sinceramente. Ok. Per fortuna non abbiamo commesso altri errori. Che. Che mi risulti sì perché ho utilizzato due volte il surf contro quel coso. Ok. Perfetto. Primo super 4 è andato ragazzi. Iniziamo la prossima battaglia insieme a suocero. Madonna. Che tensione. Che tensione. Che tensione e anche un po' di rabbia perché c'è questa cosa che è successa. Me la sono chiamata però vabbè. Ah ah. Sono Koga dei super 4. Sono un ninja moderno e vivo nell'ombra. Il mio stile ti confonderà distruggendoti. Confusione, sonno, veleno. Ti distruggerò con le mie infide tecniche. Ah. Con i Pokémon la forza brutta non basta. Ora te lo dimostro. Ok. Ok. Koga. Lo sapranno in molti ragazzi ma Koga è il mio super 4 barra capopalestra preferito. E manda in campo Electabuzz. Livello 40. Ok. Allora suocero è un Pokémon che non si presta a shottare gli avversari tecnicamente. Quindi Cannon Flash dovrebbe leggerlo abbastanza bene questo Electabuzz. Ho utilizzato Cannon Flash perché Electabuzz ha una buona difesa speciale. Al contrario di quella fisica che se non ricordo male pecca. Ok. Perfetto. Però non gli ho fatto una mazza. Forse è il caso che io switchi. Proviamo a mandare Fujira. Mister Sat... Mister Satan. Mister Satan. Dio Cristo. Non può essere sostituito. Allora proviamo a mandare di taglio. Madonna quanto mi ha fatto quel tuono shock. Fermo. Ok. Curiamoci. Curiamoci che è fondamentale perché se vado a vita rossa sono fottuto. Cioè veramente tuono shock mi fa così male raga. Ma l'avete mai visto voi un tuono shock che ti butta giù metà vita? Madonna. Ok. Andate giù. Ghibo. Ok. Ghibo il perfetto. Però tipo terra. Non mi fido. Quindi manderei Brazzerina. Ok. Sì. Metal testata l'ho usata due volte. Ok. Ok. Che infarto. Tra l'altro se mando a puttane questa challenge qua raga non so sinceramente cosa fare. L'ho usata due volte Metal testata. Sono abbastanza sicuro. Funesto vento. Spero anche di boostarmi. Però ci conto davvero poco sinceramente. Perché conoscendo Brazzerina è puntualmente. Drago pulsar. Aia. Ora. Volo. Volo è stab. È fisica. Secondo me questo. Ghibo. Mandalo giù. Mandalo giù. Mandalo giù. Se non lo manda giù è morto. Sì. Cazzo. Sì. 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 C'è raga. Se mi avesse mandato a vita rossa sarebbe stato un problema. Tra l'altro ragazzi vi ricordo che se un pokemon dovesse morire dei nostri posso curarlo con i revitalizzanti. Sapete che stavo parlando? Non ho visto che pokemon sta mandando. Io mando. Oh. Ok. Dovrebbe. Oh. Oh. Che bellezza. Allora. Laccio erboso. No. No. Cazzo. Non ho pensato. Alla mossa di tipo roccia. Reggi. 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 In alternativa. Schiatta. 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 No. Oh oh. È morto. Oh oh. Ragazzi. È morto. Essendo andato a vita rossa. Purtroppo è morto. Mannaggia. Fermi. Sì. No. Le palle. Io mi curo. Io mi curo. Due parde balle. Io mi curo. Io mi curo. Non hai capito. Allora. Fermi. Gran fisico. Cristo Dio. Basta avvelenarmi. Madonna. Allora. Fermi. Ricarica totale. Utilizziamola subito. E poi. Ok. Calma. Poi provo una breccia di quelle che non hai idea. Tanto l'ho già colpito. Sì. Muori. Allora. Mi sono anche boostato. Ti prego vai giù. Porca di quella troia. Allora. Fermi. Questo. Tanto vale che utilizzo un altro gran fisico raga. Ok. Perfetto. Ora. Geloscheggia per non rischiare di mandarlo giù. Che non vorrei mai succedersi una roba simile. Ok. Ok. Fermati con queste sberle. Sono a posto con le challenge. Sì. Sono a posto con tutte. Breccia. Cazzo. 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 No. 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 Ok. 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 Devi morire. Non può non morire. Non può non morire ragazzi. Utilizzato gran fisico. Ok. Oddio. Grovail. Fermi. Vai Brazzerina. Vai Brazzerina. È il tuo momento. Bussa. Ti fai qualcosa? No Cristo Dio pazienza. No Cristo Dio pazienza. Fermi. Volo. 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 Ok. 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 Colpiscilo e forse l'abbiamo vinta. Ok. Ok. Ce l'abbiamo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Oh. Oh ragazzi. È morto. Come strength. Cioè. Strength non è morto. È inutilizzabile. È diverso. Merda. Ne ho già persi due. Tra l'altro paradossalmente potrei anche volendo stoppare ai super 4 e farmi il campione con un'altra challenge perché obiettivamente dipende con quanto diciamo con quanti minuti arrivo dal campione. Perché effettivamente sta durando tanto perché siamo già a 13 minuti circa. Se arrivo con circa 30 minuti prima del campione la stoppo e il campione lo faremo nel prossimo episodio. Ovviamente nel prossimo episodio se dovesse succedere che la dividerò in due parti o rimarrà comunque morto e anzi è scomparso anche dalla sidebar. Strength tornerà utilizzabile. Bruno. Sono Bruno dei super 4. Mi alleno sempre al massimo perché credo in me e nelle possibilità dei miei Pokémon. Ecco perché siamo così forti. Riuscirai a tenerci testa. Non vedo alcun timore in te. Hai determinazione. Lo spirito giusto per lottare. Creepy. Iniziamo. Dovrai piegarti alla nostra potenza. All'attacco. Parte la sfida con Bruno che in prima gen e in terza coi remake se non sbaglio era il secondo super 4 e non il terzo. Parasecto. Ok ho scelto il Pokémon giusto. Allora fermi. Funesto vento. No! No! No 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 no. Ok. Ok. No! Oh mi scliccato. Secritti. Secritti porca troia. Misclic di merda ragazzi. Che schifo di vita. Ok è morto. E ho finito il funesto vento su Brazzerina. Questo è un problema perché adesso rischio davvero di buttare giù i Pokémon. Ora pocina. Mister Satan. Facciamo. Tattico. Geloscheggia che non ti deve mandare giù. Non ti deve mandare giù. Barriera. Che figlio di puttana muori. Ok perfetto. Prima io non ho utilizzato sì ho utilizzato due volte funesto vento e uno spennata. Raga sappiate che se sbaglio le challenge e non me ne accorgo sono in buona fede e mal che vada rivedendo il video lo segnalo proprio come metto fuori un non lo so un call out qualcosa non ne ho idea. Fuji vai. Allora non si possono scelta di Pokémon ci siamo. Pokémon morto vita rossa ci siamo. Non può essere la mossa tre volte di fila. Ci siamo. Gabite. Ora per Gabite. Non rischio vado di spaccaroccia perché non si sa mai con la buona Cynthia che cosa può succedere. Ok diminuite la difesa fisica. Mi hai paralizzato ti odio. Cura totale subito. Vai così perfetto. Mazzuolegno fa malissimo. Non so se rischiarmi il pestone. Posso provarci perché ho diminuito la difesa fisica. Vediamo se ci ho preso. E invece questo si cura però tentenna. Allora posso andare ancora di un pestone. E volendone posso fare un altro. Devo ricordarmi di non utilizzarlo adesso. Anzi per sicurezza raga io switcho perché su queste cose qua poi io sbaglio sempre cioè perennamente lo sapete. Ok. Shelgon. Mr. Satan puoi andare tu secondo me. Pugno rapido. Pugno rapido su Shelgon. No ok era un critical era un critical. Carta vetro di Shelgon maledetto. Ira di drago ok non dovrebbe essere un problema sì. In realtà sì che è un problema perché. No cosa sto facendo? No minchia che infarto. Io ho paura a premere i tasti veramente. Cioè. Allora fermi. Iper pozione. Copione. Ancora. Allora non dovrei morirci se mi fa un altro. Cioè non dovrei andare a vita rossa se mi fa un altro Ira di Drago. Dovrei rimanere con tipo un terzo dei miei PS. Ok conchinella. La conchinella potrebbe averci aiutato tantissimo. Talma. Ok. Non so che cosa abbia intenzione di fare. Sta di fatto che con ce lo scherzo. Attacco per primo sì. 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 Ok. Hit Monchan. Fuji. Fuji. Facciamo una mossa a caso. Poi raga psichico e lo secco. Poi psichico e lo secco. Ora. Spacca roccia. Sottomissione. Ok. Psichico e giù. Ti odio mi fai sprecare i pipì. Muori. Ok. Dovremmo essere a posto anche con le mosse ragazzi. Non dovrei avere. Io c'ho l'ansia ve lo dico. C'ho l'ansia di mandare a puttane le challenge. Ci siamo. Siamo a 17 minuti. Se la prossima battaglia va bene posso anche affrontare il campione. Tanto raga fosse. Allora. Fosse successa con Fuji la roba dello shot. Probabilmente. Avrei preso la pausa. E mi sarei ripreso. Avrei provato ad affrontare il campione con Fuji. Essendo strength. Secondo me possiamo comunque andare oltre. La prossima la voglio iniziare con suocero però. Perché non ha ancora combattuto. Ok. Ci siamo. Certo che raga. O per quei 3 ps. Poteva anche schiattare. Mannaggia a lui. Sono Karen dei super 4. Tu sei creepy eh. Ma guarda. Mi piacciono i pacondi tipo buio. Il loro aspetto duro e ribelle. Così attraente. E sono così forti. Credi che potrei resistere? Dai. Fammi divertire. Lottiamo. Parte la sfida. Siamo a 18 minuti e qualcosa. Dalla durata di questa battaglia vedrò che cosa fare dopo. C'è il gon minchia di nuovo che odio. Ok. Calma. Metal testata. Perfetto. Ira di drago. Aia. Eh no. Questo fa malissimo. Devo mandare un Pokemon con tanti PS. E il designato è Fuji. Per ovvie ragioni. Ok. Andiamo con un altro psichico e lo mandiamo giù. Perfetto. Ci siamo. Non l'ho shottato. Non l'ho. Ok. Ok. Sto ragionando. Oh oh. Non dovrebbe avere incredibili mosse. Perché deve essere come il mio. Pestone. Devo ragionare. Perché se... Sto facendo aeroattacco. Merda. 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 Allora fermi. Oh oh. No cazzo non ce l'hai tu aeroattacco mi sa. Fammi vedere. Mi sa che t'ho lasciato aeroassalto brutto. No sì sì aeroattacco. Fisica. 128. 5 livelli in più. La rischio. La rischio ragazzi. La rischio. La rischio. La rischio. Questo momento è decisivo. Questo momento è decisivo. No. Ok. 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 Allora fermi. Pozione subito. Minchia. Tra l'altro le sto quasi finendo. Cristo Dio. Pozione su Fuji. Fuoco pugni. Ti odio. Ti odio. Ti odio. Ti odio. Ti odio. A morte. Ricarica totale. Non posso rischiare. Raga. Fuji no. Fuji non posso rischiarlo. Posso rischiare tutti ma non Fuji. Perché senza Fuji questo team non va avanti. Ti prego vai giù. Vai giù. Vai giù. Sì. 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 Questo è il cazzo di karma. Questo è il cazzo di karma. Godo. Questo raga è stato decisivo. E sono sicuro che non l'avrebbe buttato giù. Arcanine. Merda. Quanto cazzo è forte questa? È fortissima. Mi ha mandato tre pokemon. Tre bestie. Ok. Pestone. Speravo di fargli di più. Tentenna. Tentenna. Fuji sta axando come un pazzo. Fuji sta axando come un pazzo. Vento gelato. Non dovrebbe essere un problema. Fermo. Diminuisce la velocità. Psichico. Fuocopugno. Fermo. Fermo. Ok. Psichico. Vai giù. Arcanine dovrebbe essere meno resistente. Di oh oh. Ok. Fuji. Fuji. Io ti amo. Non ci credo. Non voglio crederci. Che è successo davvero. È successo davvero. Questo è assurdo. Ha crittato due volte di fila. Ha fatto questo è assurdo. C'è una cosa incredibile. Veramente. Ho pugno rapido su gra. Le punte. Le punte. Le punte. Cristo. Raffica. 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 Sì. Allora no. Stavo pensando se prima avessi utilizzato tre mosse di fila. Ma no. Non è successo. Perché ho utilizzato sempre due pestone e uno psichico. Sì. È andata così. Ok. Gran fisico. E adesso geloscheggia. Sto controllando sempre le challenge. Dovremmo essere a posto. Ora. Volante terra. Se non vai giù così non so come tu possa morire. Ok. Dovrebbe mancargliene uno ragazzi. Un Pokémon soltanto. Che è un Wildmare. Che è un Wildmare. Allora. Non penso valga la pena di rischiare con Wildmare. O Wildmare. O Wildmare. Perché ho detto Wildmare. Oddio. Quindi geloscheggia. Avrei potuto utilizzare pugno rapido. Ma avevo paura del critical. Siccome sono anche boostato con gran fisico. Leggimente. Merda. Allora. Proviamo un Breccia. Allora. Secondo me va giù. C'è. Vabbè. Allora. In teoria si ricarica. Sì. Ora. Stavolta ho utilizzato pugno rapido. Vedendo Breccia. Anche un critical di pugno rapido non mi spaventa. Ok. Perfetto. Adesso con Breccia. In teoria dovrebbe morire. Non ho utilizzato tre volte le mosse. Non ho sceltato i Pokémon. Ok. Perfetto. Ci siamo. Ci siamo. Lo affrontiamo Lens. Non trovo più lo schienale raga. Assurdo. Veramente. Sono davvero in tensione. Adesso c'è Lens con quattro fottuti Pokémon. C'è. Quattro e mezzo. Perché vabbè. Strength. Praticamente non è valido. Ok. Tra l'altro. Non per demeriti suoi. Perché. Non è che poteva fare molto. C'è. C'è. Ha subito una sfiga allucinante. Io non ho alcun pipì. Alcun. Non ho nulla. Ne. No. Però. Forse. Se avessi anche una baccamela. Che non ho ovviamente. Perché ho trovato tutti i tipi di bacche. Ma la baccamela. Quella mai. Ho solo quattro psichico con Fuji. Andiamo ragazzi. Andiamo ad affrontare Lens. E qua. Ci sarà uno dei dialoghi più belli della storia dei giochi Pokémon. Pokémon. Sì l'episodio durerà tanto ragazzi ma fa nulla. Mi è sempre da sorridere sto dialogo. Ti stavo aspettando. Creepy. Sapevo che non avresti avuto alcun problema a giungere qui. Le parole non servono. Lotteremo. Per capire chi sarà il più forte dei due. Io Lens. Il più forte degli allenatori e campione della Lega Pokémon. Io. Come maestro di tipo Drago. Accetto la sfida. Ragazzi è iniziata. Subito così infame eh. Per forza. Metal testata. Non mandarlo giù. Ok. Subito la pozione. Subito la cura totale. Non me la sento di rischiare. Cura totale. Ok. Paradossalmente eravamo partiti molto male ragazzi. Con queste tre challenge. Ma poi siamo riusciti a portarle fino al campione perlomeno. Ora. Suocero. Come sono le tue statistiche? Hai più attacco fisico. Proviamo un taglio. Lui continua ad andare di semi bomba. E la cosa va bene. Finché non critta. Ovviamente. Taglio. Ok. Ne rischi un altro. Non crittare. Non crittare. Non crittare. Non crittare. Non crittare. Ok. Taglio. Non mandarlo a vita rossa. Ok. Perfetto. Così ti voglio suocero. Iperpozione. Iperpozione su suocero. Lo curiamo. Adesso lui dovrebbe fare ancora. Bastardo. Ok. Fermi. Paradossalmente questo qua. No no no. Questo qua se ne viene fuori con un terremoto di merda. Questo qua se ne viene fuori con un terremoto. Allora. Ho spaccato tutto. Allora. Io qua so. Per certo. Che lui mi farà terremoto. A malincuore. Io tento di shottarlo. Non ho altra scelta. Tento di shottarlo. E poi ritirerò suocero. Non utilizzandolo. Non ho davvero possibilità. Se non lo uccido. Probabilmente muore suocero. Probabilmente è morto. Geoforza. Aspetta. Se muore lo posso. Se muore non muore. Muori. 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 Muo. E non posso neanche switcharlo raga. Quindi devo. Cioè. Per forza di cose. Devo buttare giusto graveller con suocero. Anche se è morto. Non ho scelta. Perdonatemi. Perché non posso switcharlo. Non posso switcharlo. Tra l'altro ho utilizzato tre volte di fila a cannon flash. Ma non è comunque valida come cosa. Perché ragazzi suocero era. Era in campo. Ma non. Di fatto non vale. Quindi anche se avessi. Buttato la challenge delle tre mosse di fila. Con suocero non valeva. Perché era praticamente morto. Sono stato trollato diciamo. Ma andiamo fuji a sto punto. Che sfiga raga. Che sfiga. Mascherain. Ok. Mascherain non dovrebbe essere un gravissimo problema. Cosa ci boostiamo? L'attacco fisico. Quindi non me la sento. Spaccaroccia. Ok. Ok. Cosa sta facendo? Ventagliente. Perfetto. Ventagliente. Vado tranquillo. Perché non mi dovrebbe fare assolutamente nulla. Vado di pestone. Perché mi sono aumentato l'attacco. Vorrei proprio vedere se no. Non voglio. La realtà ragazzi. È che voglio sprecare meno psichici possibili. Perché ci servono. Ci servono. Nel caso dopo venisse fuori un pokemon davvero forte. Ok. Io me la prendo con comodo. E faccio un altro spaccaroccia. Per non rischiare di mandarlo a vita rossa. E fargli utilizzare un'altra ricarica totale. Se non sbaglio. Una tipo duo tre lens. Spaccaroccia. Ne dovrei avere utilizzati due. Perfetto. Pestone uno. Siamo a posto. Pokemon non ne ho shottati. Ci ho provato. Non ci sono riuscito. Maitina. Allora. Utilizzerà mosse di buio. Io mando Mr. Satan. Perché ho paura delle mosse di buio di Maitina. Che sono stab tra l'altro. Mr. Satan. Vai. Tra l'altro ricordiamo che lui è un pokemon a vita molto bassa. Ora io non mi fido di pugno rapido. In generale non mi fido di Mr. Satan. Perché in questi casi è troppo forte ragazzi. Geloscheggia. Geloscheggia. Ok. Sgranocchio. Non dovrebbe essere sto gran problema. Porca troia. Invece fa un male boia. E mi diminuisce la difesa. Dio che infarto. Perché è attaccato per primo? Probabilmente se mi avesse utilizzato un altro sgranocchio. Mr. Satan sarebbe andato a vita rossa. Brutto colpo. Penso inutile. Probabilmente sarebbe andato a vita rossa. E avrei perso anche lui. Avrei perso anche lui. Tra l'altro sì. Siamo qua con tre pokemon. Anche suocero è morto ragazzi. Eccolo qua. Ok. Non mi ero accorto di questa cosa qua. Hai un pochino e un Maitina. Cioè sei serio? Sei il campione della lega pokemon? E... Ah ma non è il pokemon che mi hanno dato prima? Prima chi cazzo ha mandato? Vabbè. Pochi cazzi. Non è importante. Non mi ricordo sinceramente. No. Non mi ricordo. Basta. Geloscheggia. Ok. Per fortuna. Ah sì. Ho dato un botto di strumenti ai miei pokemon ragazzi. Non so adesso quali. Mr. Satan ha la conchinella. Gli altri ne hanno altri. Sono tutti strumenti che ho assegnato mentre stavo vendendo gli strumenti. Ho visto che ne avevo qualcuno di buono. L'ho assegnato. Breccia. Ok. Ok. Mancano due pokemon e uno è a vita molto compromessa. Ossia Cacturne. Mr. Satan lo può buttare giù con geloscheggia. Allora non dovrebbe shottarlo perché è un geloscheggia. In teoria. Guarda che scandalo. Dio bono. Pugno rapido. Guarda. Eh stavolta mi sa. No ok. Se non Krita non dovrebbe andare giù. Se non Krita non dovrebbe andare giù. Sta di fatto che comunque diventerebbe inutilizzabile a Mr. Satan. Ma ragazzi non penso sia un gran problema. Non ci poniamo il problema. Un altro pugno rapido. E Cacturne giù. Ne manca uno. Ne manca uno ragazzi. Ne manca uno. Ne manca uno. Fa che sia randomizzato normale. Sì. L'Arvitar. Posso anche tenere Mr. Satan. Calma. Raga potrei anche prendere e shottarlo e fregarmene dalla challenge. Perché tanto non lo utilizzo più. Vaffanculo. Io lo shotto. Campioni. Brutto colpo inutile. Campioni. Con due Pokémon morti. Ma siamo campioni. È finita. Ma ho una strana sensazione. La sconfitta non mi brucia affatto. Anzi ne sono felice. Felice. Di aver visto crescere un nuovo. Grande campione. Ragazzi. Temevo seriamente di non farcela. E invece siamo qua. Ormai. Sei davvero forte Creepy. I tuoi Pokémon sono cresciuti grazie al tuo spirito forte e leale. La tua abilità nell'allenare i Pokémon sarà sempre più ammirevole. Questo momento qua è il più brutto dei giochi Pokémon e io lo balzo di prepotenza. Non ho assolutamente intenzione di leggere i dialoghi di questi due idioti. Quindi velocemente balza. Voglio andare nella sala del campione con Lance. Ok. Levati dal can... No veramente questa scena qua secondo me rovina tutto ragazzi. Secondo me... Fatemi sapere cosa ne pensate. Per me rovina tutto. Che bella. Era un bel po' che non entravo qui. In questo posto i campioni della Lega sono onorati per sempre. Anche i loro valorosi Pokémon possono accedervi. Oggi assistiamo alla nascita di un nuovo campione. Una persona che ha saputo trattare i suoi Pokémon con grande affetto e totale fiducia. Una persona che si è fatta strada con tenacia e determinazione. Il nuovo campione della Lega che ha tutti i tratti di una grande personalità. Creepy oggi proclamo te e i tuoi Pokémon campioni. Ce l'abbiamo fottutamente fatta. L'episodio ha durato 40 minuti. Non lo so non mi interessa. Suocero che è morto. È morto per... Per sfiga in realtà. Perché non ho potuto sostituirlo e... Avrei voluto sciottare il Pokémon. Non ci sono riuscito ma mi hanno dato a vita 7. Tra l'altro come... Oh oh me ne sono accorto adesso. Mr. Satan che è stato forse il migliore all'interno di questa Lega. Brazzerina ragazzi. Grandissima. Grandissima anche lei. Tra l'altro Mr. Satan che mi avete consigliato voi io non l'avrei mai preso. E quindi grazie mille a tutti quelli che me l'hanno consigliato. Che mi hanno consigliato di evolvere Tyrog più che altro. Fuji il nostro starter. Un Mewtwo starter non si vedeva da mai tipo. Strength che è in squadra ragazzi. È in squadra assolutamente. Grandissimo Strength che... Hai avuto sfiga però... Ci hai accompagnato per davvero troppo tempo. E quindi ti voglio bene. E oh oh che è durato davvero tantissimo. È morto subito. Non... Per deficit mio che non ho pensato a una possibile mostra di tipo... Tra l'altro minchia ho buttato giù da un Gibbon raga che tristezza. Questo è il team. Ragazzi questa serie è giunta al termine. Adesso vi parlerò con i titoli di Codabelli così almeno farò qualcosa di molto figo. Quindi forza salva grazie siamo campioni. Ragazzi come alla fine di ogni mia serie volevo fare un discorso descrivendola e... E parlandovi insomma di come mi sono sentito registrarla. Allora è stata forse inizialmente una delle serie più amate del canale. Penso che il rapporto di visual likes sia sempre stato fantastico e di questo vi ringrazio davvero tanto. Purtroppo ho subito un pesantissimo calo con la... con il crollo dei feed. Ma sinceramente non mi è importato particolarmente perché io di quelli che vedevano i video, che ricevevano i feed, che hanno continuato a seguirla. Ho sempre visto un apprezzamento a livello di like, a livelli di commenti, che mi ha fatto letteralmente amare questa serie. L'ha fatto amare tanto anche a voi. E qua arriva la mia fra virgolette proposta. Ho aspettato proprio a fine video perché volevo che non ci fosse un diciamo... come si potrebbe dire, una sorta di condizionamento a livello mentale. Ho voluto aspettare il fine video perché io ragazzi sto per cambiare connessione. La cambierò, spero, il più breve tempo possibile. E farei delle live. Ora, mi avete chiesto in tantissimi di portare canto. Io canto non posso... non posso portarla. Non è che non voglio, non posso. Perché ho un progetto che non riguarda solo me, che molti conoscono già, che molti hanno già intuito, che dovrà uscire e che quindi occuperà la programmazione. Ma se questo video raggiunge 300 like, lo so che sono tanti, ma adesso vi spiego anche perché così tanti, io in live porterò la challenge lock anche a canto, su questa stessa ROM, con due nuovi Pokémon, proseguendola, andando ad affrontare Rosso in live, facendo scegliere le challenge direttamente da voi nei commenti della live. Questa sarebbe la mia idea. Perché vi chiedo così tanti like e non lo faccio di mia spontanea volontà? Perché io personalmente in live porterei altro. Mi giocherei la regione di canto da solo, senza registrarla. Però, se vedo che il vostro attaccamento a questa serie è così forte, io veramente non ho assolutissimamente nessun problema a portarla in live. Ripeto, ho voluto aspettare la fine del video perché non volevo che suonasse come un ricatto della serie a 300 like ve la porto. Io voglio vedere il vostro attaccamento a questa serie, voler vedere la vostra voglia di continuare a vederla. Sì, era una frase molto contorta. E non voglio che questa sia un semplice ricatto. Voglio che il like a questo video sia stato messo più con il cuore che in prospettiva di una... come si può dire? Di una ricompensa, fra tante virgolette. Quindi questa è la mia proposta. Se questo video raggiunge 300 like, non è necessario che ne raggiunga per forza 300. Basta che si avvicini. E comunque, in generale, se vedrò tanto apprezzamento, appena avrò una connessione che mi permette di streammare, io vi porto canto. A proposito, sottolineo anche che Light Platinum, che qualcuno mi sta chiedendo, non uscirà la seconda parte perché ho perso i salvataggi. Molto semplice. Ragazzi, siamo a 38 minuti di registrazione. Io direi che possiamo concluderci qua. Spero che il video, per quanto lungo, vi sia piaciuto. Spero che la serie, in generale, vi sia piaciuta perché, tecnicamente, è finita. Potrebbe riniziare in live, ma per ora è finita. E nulla. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi... Madonna, mi veniva da ruttare. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, la campanella è in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale. I social in descrizione, nulla. Fatemi vedere se siete davvero tanto attaccati a questa serie, io ve l'ho detto. Vi ringrazio davvero tantissimo per il supporto, per tutte le challenge che mi avete consigliato. Non sapevo di avere dei geni tra gli iscritti. E nulla, ragazzi. Noi adesso saltiamo il filmato e con questo Oh Oh, che è morto, sullo schermo, noi ci becchiamo in un prossimo video.